Potrebbe essere un cittadino marocchino di 30 anni senza fissa dimora l'autore della serie di scippi avvenuti nel territorio comunale di Battipaglia nei giorni scorsi. Gli agenti del commissariato di Battipaglia guidati dal dirigente Giuseppe Fedele lo hanno individuato grazie al riconoscimento della vittima dello scippo effettuato lo scorso 29 aprile. Si tratta di una donna sessantenne che stava passeggiando in compagnia del marito e ha fornito dei dettagli ed ha aiutato con la sua ricostruzione ad individuare in Ottman Reel ha già pregiudicato il presunto autore dello scippo. L'uomo nell'obiettivo di sottrarle la borsa che la donna indossava a tracolla l'ha strattonata e fatta cadere a terra causandole delle lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. Al momento del fermo da parte degli agenti della polizia di stato lo stesso è stato trovato in una zona centrale del comune di Battipaglia in possesso anche di un paio di forbici. Ora le indagini proseguono per capire se il cittadino nordafricano possa essere stato l'autore anche di altri reati analoghi avvenuti nel territorio del comune della Piana del Sele. Nel frattempo dovrà difendersi dall'accusa di rapina impropria e detenzione porto di oggetti atti ad offendere. Grazie. Grazie. Grazie.